Nel mare Adriatico c'è molta plastica e microplastica, troppa. Le ragioni di questa situazione sono molteplici. La principale probabilmente è che l'Adriatico è un mare chiuso e ciò che tu gli dai il mare ti ridà. Il 30% del pescato in Adriatico, secondo una ricerca dell'Università Politecnica delle Marche, ne contiene tracce. Ogni anno finiscono in mare 8 milioni di tonnellate di plastica e come se ogni minuto un camion di spazzatura riversasse tutto il suo contenuto in acqua. Ma metafore a parte, basta fare una passeggiata lungo i nostri arenini per capire la portata del problema. Molto su questo aspetto, soprattutto a livello culturale, va ancora fatto. Per questo l'11 aprile sarà da quest'anno la giornata del mare istituita dal governo insieme al nuovo codice della nautica per attirare l'attenzione sul valore economico, sociale e storico di questa importante risorsa. L'11 aprile non è stata una scelta a caso, infatti oggi ricorre l'anniversario del naufragio della petroliera Aven, il più grave incidente marittimo avvenuto proprio l'11 aprile del 1991 nel tratto di mare davanti a Voltri. Nell'incidente morirono quattro membri dell'equipaggio ed il comandante, ma l'affondamento causò una perdita di migliaia di tonnellati di petrolio che ancora oggi inquinano il mare antistante Genova. Marina dei Cesari e la rete MPN Marinas hanno promosso in questa giornata un'iniziativa che parte dal coinvolgimento degli studenti, dando sfogo dopo una giornata in spiaggia a raccogliere i rifiuti, la loro creatività. Finalmente si sta passando dalla politica del dire alla politica del fare. In questi mesi abbiamo iniziato a sensibilizzare la comunità locale, soprattutto le scuole, è importante che i giovani sappiano quali sono i danni che in mare capitano con le emissioni di plastiche, di palloncini, di cotton fioc, tutte cose che sono normalmente nella nostra quotidianità. Far vivere direttamente ai ragazzi questa esperienza è importantissimo perché vivere la realtà della raccolta dei rifiuti nel mare, rendersi conto che effettivamente trattiamo così male questo bene che per noi è così prezioso, per una cittadina di mare in particolar modo, è un'occasione per far nascere ai ragazzi proprio questa coscienza di rispetto dell'ambiente. Poi siccome la nostra scuola ha anche una vocazione artistica, chiaramente poi l'occasione è una cosa importante per riuscire a realizzare attraverso la loro creatività delle opere d'arte con quelli che prima sono stati dei rifiuti. Domani in giunta porteremo una delibera di indirizzo che consentirà al Comune di Fano e Aset in collaborazione di definire una strategia composta da molte azioni proprio per garantire non solo un'efficace pulizia ma anche una pulizia mirata che in questo caso Aset, posso già anticiparlo, inizierà a partire da lunedì relativa proprio ai rifiuti della plastica a partire da Fosso 6 ore. Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie!